Buongiorno, siamo qui nel giardino di Via Manzoni, un punto di riferimento di questa città perché dai tempi del Covid tutti abbiamo capito quanto è importante intrattenersi all'aperto. Ebbene, qui nel giardino di Via Manzoni tante persone vengono per socializzare, vengono per fare sport, vengono ad assistere a spettacoli, sono le giustine per i bambini ed ora si arricchisce l'offerta in questi spazi, stiamo realizzando dei gazebo con panchine e tavolini, la presa per caricare il telefonino e per restare connessi per poter lavorare all'aperto o socializzare all'ombra del gazebo in attesa che cresce la vegetazione per poi poter godere magari della frescura degli alberi.